Ciao magnifici, buon pomeriggio. Oggi voglio leggervi una bella poesia. Come te che non hai naso, ci sono milioni di esseri altrettanto strani. C'è chi è monco, orbo, sputa, c'è chi cammina persino con le mani. Anche quando soffri tu mordi te stesso, urli di voler cambiare, ma nello stesso istante i fiori sbocciano e l'acqua, l'acqua scorre verso il mare. Pensi che importi molto al mondo? No, no, no. Lui comunque gira in tondo. Il volgo, il nobile, il padrone, il vicino che incontri sul portone cercheranno sempre qualcosa di cui parlare. Qualcosa di turpe, qualcosa da additare. L'odio e la cattiveria rassicurano la loro ignoranza. Ci sarebbe da compatirli se non fossero la maggioranza. Tu devi reagire. Il tuo corpo resterà sempre visibile ed esposto, ma se non lo mostri, nessuno apprezzerà che quel che è nascosto, la tua risata, la tua forza, la tua poesia, sono cose che nessuno potrà portarti via. Buona serata.